Si è concluso il secondo viaggio studio dei vincitori della 34esima edizione del progetto di storia contemporanea per le scuole, promosso dal Comitato Resistenza e Costituzione con l'Ufficio Scolastico Regionale. Gli studenti, che provenivano da istituti delle province di Asti, Cuneo, Novara, Torino e Vercelli, hanno visitato il campo di Serminio di Mauthausen e il Memoriale di Gusen in Austria.